Nei vari punti dell'ultimo consiglio comunale della città di Capaccio Pestum si è parlato anche di un problema grave che affligge il territorio, l'abbandono dei rifiuti e la creazione di mini discariche. Nonostante nel comune sia presente un'isola ecologica e nonostante venga effettuata la raccolta domiciliare dei rifiuti, continua a verificarsi su tutto il territorio comunale l'abbandono illecito di rifiuti. Nel periodo estivo il sindaco Franco Alfieri aveva adottato una sanzione amministrativa specifica pari a 500 euro e aveva reso i controlli più serrati ma il fenomeno non si è placato. A tal proposito il presidente del consiglio comunale Emanuele Sica ha annunciato l'adozione di un sistema di fototrappole per le forze dell'ordine, in particolare per i vigili urbani, con lo scopo di tutelare al meglio il territorio. Grazie alle fototrappole si potrà prevenire questo fenomeno. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Franco Alfieri ha accolto quindi le tante richieste dei cittadini capacesi al fine di salvaguardare in modo ottimale l'ambiente dall'inciviltà.